Si procede da destra verso sinistra per cui tenete presente che la sesta è la corsa più in alto rispetto ai vostri, al vostro punto di vista. Partito, è Filippo un po' indietro in questa partenza, è uscito molto bene Saramai Asu, esce bene anche Patta, così come esce bene anche Benjamin Azamati, il crono di... Grazie 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 Grazie